Il voto all'unanimità ieri in Consiglio è anche un segnale di una grande compattezza della città in questa fase, che è una fase fondamentale per evitare il dissesto e rilanciare economicamente la città, garantire quindi anche una capacità di investimento, di gestione del quotidiano, quindi noi adesso, anche partendo dal dibattito che è stato portato avanti in Consiglio, nelle commissioni, in maniera molto condivisa, noi faremo le ultime limature insieme al Presidente del Consiglio e quindi nei prossimi giorni si arriverà alla firma del patto, che è un momento veramente importante per una città che ha sofferto economicamente tanto negli ultimi anni con grandissimi problemi che sono sotto gli occhi di tutti.